Ciao a tutti amici di Tecnologia Su Misura e benvenuti in questa terza parte del nostro tutorial sulla programmazione in C. In questa terza parte ci occuperemo di spiegare o almeno accennare i costrutti condizionali. Abbiamo realizzato due esempi che realizzeremo in due parti diverse, la prima naturalmente è più corta perché dovremo solo spiegare l'esecuzione di questo programma. Comunque in questo codice che vedremo in questa prima parte vedremo semplicemente un piccolo esempio molto banale per capire come funzionano i costrutti if, else if e else. Mentre in questa seconda particina abbiamo realizzato un programma che è solo leggermente più complesso ma che almeno è un programma che ha uno scopo e sostanzialmente si tratta di un numero casuale che il nostro computer pensa e noi dovremo cercare di azzeccarlo e verranno conteggiati i tentativi con cui ci avviciniamo alla soluzione. Comunque adesso dedichiamoci a questo primo esempio. Vedete che è un programma quasi totalmente uguale a quelli che abbiamo visto in precedenza se non per la presenza di questo ilf e questi due commenti che poi sbloccheremo che rappresentano appunto i comandi else if e else. Mentre per quanto riguarda l'introduzione è sostanzialmente la stessa rispetto agli altri esempi perché abbiamo incluso sempre la solita libreria. Abbiamo dichiarato come sempre la nostra procedura main, aperto le graffe, abbiamo dichiarato una variabile intera non inizializzata perché la inizializzeremo tramite un input da tastiera. E adesso veniamo a quello che dobbiamo spiegare ovvero cominciamo dal costrutto if. Questo costrutto si basa appunto sull'istruzione if aperta la parentesi tonda con un operatore di confronto. Quindi abbiamo la nostra variabile che abbiamo inizializzato con l'input da tastiera e diciamo praticamente uguale uguale a 1000 significa se la variabile ha un valore uguale a 1000 allora si eseguono queste stampe. Altrimenti si passa alla prima istruzione fuori dai blocchi che è questa printf che indica semplicemente che il programma è terminato. Quindi se chiamiamo F11 e compiliamo il programma vediamo che se inseriamo 30 ad esempio compare semplicemente programma terminato proprio perché questa condizione non è stata verificata. Se invece richiamiamo ancora F11 e gli diamo un valore esattamente uguale a 1000 allora questa condizione viene verificata e vengono stampate le stringhe che avevamo impostato. Quindi ha inserito un numero con un valore uguale a 1000 e ora esco dalla condizione qui c'è un errore ok mentre l'istruzione ELF fa da controparte all'istruzione IF in poche parole se questa condizione non viene verificata allora viene eseguita questa stampa. Quindi se premiamo ancora F11 e gli diamo come valore 30 un valore a caso che non sia 1000 ci dice siamo nel ramo ELSE mentre questa stampa di programma terminato viene eseguita tutte le volte. Se invece vogliamo aggiungere un'altra condizione a quella che abbiamo impostato cioè a quella X uguale a 1000 allora possiamo chiamare un'istruzione di tipo ELSE IF in modo da poter inserire appunto un'altra condizione. in questo caso abbiamo scelto una condizione più complicata solo per darvi modo di avere un esempio più completo possibile per quanto si possa realizzare un esempio nell'arco di 10 di 10 minuti insomma quindi sostanzialmente viene anche valutata un'altra condizione in questo caso se X è maggiore di 10 e allo stesso tempo X è minore o uguale a 20 allora viene eseguita questa stampa quindi chiamiamo come sempre F11 e vediamo un esempio se gli diamo 15 appunto viene viene realizzata questa stampa prima di passare alla spiegazione del nostro piccolo riassunto volevo anche farvi notare che se all'interno di uno di questi blocchi che può essere IF, ELSE IF o ELSE vi è solo un'istruzione allora le parentesi graffe possono essere rimosse e sono totalmente facoltative infatti come vedete dopo la condizione scrivo direttamente l'operazione di stampa altrimenti se vi sono più istruzioni all'interno del blocco queste devono essere racchiuse da un nuovo blocco racchiuso appunto da parentesi graffe qui in basso invece ho messo un commento che in modo che poi quando condivido il codice su Google Drive nella descrizione del commento possiate leggerlo e sostanzialmente riassumo i vari operatori di confronto che si possono utilizzare all'interno delle condizioni quindi maggiore minore maggiore uguale minore uguale uguale oppure diverso e poi ho anche scritto in modo che possiate capire che naturalmente più condizioni possono essere legate da un operatore e commerciale e commerciale che significa end quindi se tutte le condizioni all'interno se tutti i confronti all'interno della condizione sono verificati si entra all'interno del blocco mentre queste due barre verticali indicano l'operatore or quindi almeno una tra queste due condizioni deve essere verificata perché si entra all'interno del blocco quindi pensiamo di aver spiegato più o meno tutto almeno le basi di questi costrutti condizionali poi ci sono altri operatori per eseguire gli stessi costrutti che però magari li vedremo successivamente perché si usano più raramente diciamo che l'operatore condizionale per eccellenza è quello rappresentato appunto da queste istruzioni ilf if else if o else e quindi ci vediamo nella prossima particina nella quale tratteremo il programma lotteria.c come al solito vi invitiamo a commentarci per dirci se se magari siamo troppo superficiai diamo troppo per scontato certe cose se ci spieghiamo male in modo che insomma possiamo migliorarci tutorial per tutorial quindi ci vediamo alla prossima e un saluto da Valerio a Grazie a tutti.